I più bravi con la racchetta in mano sono loro. Un trofeo e una serata di convivialità per i vincitori dei campionati provinciali di tennis 2017, che hanno ricevuto il meritato premio durante la cerimonia ufficiale che si è svolta la pizzeria all'angolo di Ponte Nure. Questi i primi classificati nelle varie categorie. Nicolas Malvermi nell'open maschile, Sara Segalini nell'open femminile, Alessandro Crescentini nella quarta categoria maschile, Stefania Barbieri nella quarta categoria femminile, Pierpaoro Ughini nella veterani over 45 maschile, Giussi Braghieri nella ladies over 40 femminile, Carlo Zacconi nell'under 10, Michele Brambilla nell'under 12 maschile, Allegra Fiorani nell'under 12 femminile, Simone Marina nell'under 14 maschile e infine le coppie Malvermi Tencati nel doppio maschile, Boiocchi Braghieri nel doppio femminile e Braghieri Xerra nel doppio misto. Conclusione in allegria dunque per la manifestazione che quest'anno ha visto oltre 300 tennisti di tutta la provincia sfidarsi sul campi del circolo A.T. Pontenurese. Quest'anno direi nonostante siano stati organizzati qui a Pontenure e diciamo alla fine di luglio c'è stato un nubifragio che ha praticamente distrutto gli impianti sportivi, sono riusciti nel breve tempo a riorganizzare tutto e a fare dei campionati veramente eccellenti. Ci sono stati più di 300 giocatori, tantissime gare, se non ricordo il numero, ma praticamente dall'under 10 fino ai veterani di tutte le categorie con ottimi risultati e bellissime partite. Il movimento provinciale piacentino è sempre in crescita, c'è un ritorno notevole nei tesserati agonisti. Noi abbiamo 20 società in provincia, i tesserati sono circa oramai di 1.400.